E buongiorno dalla costa d'Amalfi, buongiorno nel volo del gabbiano, nel buongiorno che ci attendiamo con un sole che rischiara, che ci illumina e che ci riscalda, un buongiorno con queste acque chete, carezzevoli, interrotto dal rumore di macchine, di persone che si regano al lavoro, nel silenzio di questo scorcio di paradiso che è la costa d'Amalfi. Ecco a voi, col sole da Maiori, dalla costa d'Amalfi, un abbraccio, un buongiorno e un pensiero a quanti abbiamo in cura, stanno bene, migliorano e noi siamo felici per loro. Insieme a voi un abbraccio a loro, un pensiero a quanti sono impegnati. sotto ogni profilo, perché tutto finisca presto, nella maniera migliore. Un abbraccio dalla costa d'Amalfi, un abbraccio da Maiori, un abbraccio da questo splendido, splendido panorama della costa d'Amalfi, da questo sole meraviglioso.